Mi fai ridere, basta! Ciao Michele, ciao Romina, mi chiamo Claudia Ho sei anni e volevo farvi sapere che mi siete molto simpatici e che vi guardo sempre I miei cartoni preferiti sono Codeglio Coyes Pretty Cure 5 Perché mi fanno sorridere tanto Michele sei simpatico ma smetti di mangiare tanti panini Romina tu sei così simpatica Vi voglio bene e vi mando tanti baci da Claudia, da Napoli Grazie Claudia, ma che carina!